BELLO A TUTTI RIGAZZI BELLO A TUTTI RIGAZZI BELLO A TUTTI RIGAZZI Siamo tornati in un'altra Riven Challenge su Warframe Questa volta dobbiamo fare una intercettazione in solo con livelli 30 o più alti con una chiave da dragonzop equipaggiata senza morire o andare a terra quindi è una bella ritura di scatola io poi uso bashi build full range e un po' di efficienza se avete forma da usare così potete farla migliore ma io vado con questa e mi trovo comunque bene poi uso bramman per sparare da lontano mettiamo la nostra chiave dragonzop useremo anche i pad andiamo sull'imperiteris xini useremo un po' di pad la torniamo ai 6 punti in solo ci si metterà un pochino ma ce la farete comunque tranquilli sperate quelli carino altrimenti vi da un conflitto dopo vi mettete qua usate i vostri ulti e siete a pochino dovete anche andare a prendere un caffè bello anche per ora faccio anche vedere dove ero qui in questa build è riuscito più o meno a prendere tutto quanto invece che i festival che magari non riuscite a a risbolzare avanti e indietro saranno quelli che volano se hanno lo scudo altrimenti non sarà easy adesso uccidiamo la gente qua ed ecco completata la nostra rima qui da tutti è tutto e noi ci vediamo al prossimo video bella